Vi ricordate della Greenway più bella d'Italia? 51 chilometri, 9 gallerie e 25 viadotti lungo una vecchia ferrovia creata nel 1926 e dismessa nel 1968. Eh sì, ricordate bene, è il percorso della Spoleto-Norcia in MTB. Anche quest'anno, l'1 e 2 settembre, saranno quattro i percorsi di quello che è diventato l'evento ciclistico più partecipato del centro Italia. Il Family, dei 14 chilometri. Il Classic, diviso tra il percorso di 40 chilometri, l'Hard, di 50 chilometri e, per finire, gli eventi per agonisti, che quest'anno vengono anticipati al sabato. Il Randonet, di 200 chilometri e l'Extreme, di 45 chilometri. Non vi sembra ancora abbastanza? Allora continuate a seguirci, dalla prossima settimana. Allora continuate a seguirci, dalla prossima settimana. Allora continuate a seguirci, dalla prossima settimana.